Ben ritrovati, siamo già arrivati al quarto appuntamento di questa nuova serie del venerdì di Miriam Camerini e abbiamo parlato di due personaggi letterari di fantasia, il Golem e il D-Book. La settimana scorsa abbiamo parlato della poetessa ebrea tedesca dei primi anni del Novecento, Else Lasker-Schuller. Oggi ci diamo il commiato da questa piccola serie con un personaggio che anche lui in qualche maniera come Else sta a cavallo tra realtà e finzione, è un personaggio che ha degli elementi reali, ma anche dei grandi elementi di fantasia e di immaginazione e addirittura fino ad oggi si discute se si è esistito realmente oppure no. Stiamo parlando del maestro misterioso Shushani. Shushani, partiamo come sempre dal nome, le parole sono importanti, come dice Nanni Moretti. Shushani è un nome, è l'unico nome con cui questa figura del Novecento è conosciuta. Alcuni lo scrivono come se fosse una parola inglese, quindi S-H, altri alla francese, così come l'ho pronunciato io, quindi C-H-O-U, Shushani. In ogni caso suona come una parola ebraica che deriva da Shushan. Shushan significa rosa o giglio, a seconda, comunque un fiore nominato anche profusamente nel Cantico dei Cantici, nello Shirashirim, e però ci rimanda anche a un'altra delle Megillot, a un altro dei cinque rotoli biblici, appunto non solo il Cantico, ma anche il libro di Esther, perché la storia di Esther nella Bibbia si svolge nella città di Susa, in Persia, in ebraico Shushan, Shushan Habirah, la capitale Shushan. E quindi questo inizia subito a farci capire come il personaggio di Shushani abbia un nome che ci rimanda a delle storie, a delle poesie, a delle storie d'amore contenute nella Bibbia e si è difficile immaginare che sia il suo nome reale. In ogni caso è l'unico ufficiale con cui viene conosciuto. Chi è Shushani? Alcuni di voi ne avranno sentito parlare in questi anni, insomma se ne sta parlando da 5, 6, 10 anni anche in Italia per varie ragioni. Shushani è conosciuto principalmente per essere stato il grande maestro di due figure importantissime del Novecento che sono state il filosofo lituano-francese ebreo Emmanuel Levinas e il premio Nobel scrittore sopravvissuto alla Shoah Elie Wiesel. Elie Wiesel racconta come ha incontrato Shushani quando lui era appena da pochi anni, da un paio d'anni uscito dal campo di sterminio di Buchenwald, unico sopravvissuto della sua famiglia. In realtà c'era una sorella che si era salvata ma all'epoca lui ancora non lo sapeva, quindi era un orfano solo che per un breve periodo viene alloggiato, assistito dall'OSE, dall'organizzazione sanitaria ebraica nelle colonie fuori Parigi, a Versailles, a Taverni e da poco tempo Wiesel, ragazzino sedicenne, diciassettenne, vive da solo a Parigi, si sta preparando imparando il francese per iniziare a frequentare la Sorbona, quando in una sinagoga di Parigi il venerdì sera, quindi durante l'entrata dello Shabbat, durante la cerimonia di accoglienza dello Shabbat, alla fine, al termine della preghiera, si rende conto che in un angolino buio della sinagoga, una sinagoga nel Marais, nel quartiere ebraico di Parigi, alcuni anziani, sopravvissuti anche loro, persone che sembrano veramente dei relitti, dei rimasugli di un'umanità che non c'è più, che è stata falciata via dalla Seconda Guerra Mondiale, dallo sterminio, si riuniscono, fanno capannello attorno a una figura strana, sicuramente fascinosa e carismatica, ma con un aspetto fisico del tutto repellente, nascosta da grossi occhiali di vetro impolverati, le cui lenti praticamente ne nascondono gli occhi, con un odore molto sgradevole, con una voce gracchiante e fastidiosa, e ciononostante questo personaggio sta appunto raccogliendo attorno a sé un capannello di anziani ebrei il venerdì sera. E allora Wiesel, unico giovane appunto sotto i vent'anni, si avvicina anche lui a questo gruppo di relitti bellici e cerca di capire che cosa li affascina tanto in questa figura così sgradevole che li tiene calamitati. E non appena appunto questo personaggio si rende conto che c'è un giovane in ascolto, gli si avvicina e gli dice hai delle domande, dammi delle domande. E il giovanissimo Wiesel, intimidito, impaurito da questo improvviso incontro, cerca di farsi venire in mente qualche domanda sul testo della Torah, sul testo della Bibbia che si legge quella settimana, mette insieme alla bella e meglio qualche domanda e Shushani, che scopriamo essere appunto questo sgradevole e maleodorante personaggio, si lancia in una spiegazione meravigliosa che mette insieme cielo e terra in tesse di tutto e al termine di questa spiegazione il giovane Wiesel affascinato non riesce a non dire che bello, che bella spiegazione, che meraviglia. E allora Shushani si arrabbia ferocemente e inizia a urlare, a gridargli bello non significa nulla, le risposte non contano niente, a me interessano le domande, se hai delle domande dammele. E in tutto questo Shushani lascia addirato la sinagoga, se ne va, e Wiesel passa quel venerdì sera a cercare di rincorrerlo, di andarlo a ritrovare in giro per le stradine del Mare senza ovviamente ritrovarlo. E diventa ossessionato al desiderio di appunto di rincontrare questo personaggio, lo vuole rivedere assolutamente e però non succede per svariato tempo. Un venerdì pomeriggio Wiesel è sul treno che lo sta portando da Parigi a Tavernier, appunto, dove va a trovare quelli che sono stati i suoi compagni in questa colonia dell'Ose. Lui ormai appunto, come dicevo, vive da solo a Parigi, ma torna spesso a passare il sabato, trascorre lo Shabbat di festa con i suoi compagni, che invece sono ancora lì, tutti orfani, osservanti, perché l'Ose divide gli ebrei, appunto i giovani profughi, i giovani sopravvissuti, sono divisi in gruppi tra religiosi e non religiosi. Quindi il gruppo a cui appartiene Elie Wiesel è tutto di giovani ebrei osservanti e lui si sta preparando a tenere il sabato pomeriggio, come è consuetudine fare, una lezione per loro. Una lezione, e qui entra in ballo un altro libro biblico, non ci sorprende da parte di qualcuno che ha sofferto l'inferno e oltre l'inferno negli anni precedenti, si prepara a parlare del libro di Giobbe. E allora Wiesel è sul treno che legge e studia il commentario al libro di Giobbe, quando sente quella voce, quella voce che l'aveva costrofato in sinagoga, gli riappare nell'orecchio e senza nessun preambolo gli dice cosa staresti studiando? E lui, imbarazzato e già impaurito, gli dice sto studiando il libro di Giobbe, sto preparando una lezione che devo tenere a Taverni. E allora Shushani inizia a insultarlo, a prenderlo in giro, a dirgli ah sei un esperto, bene, sentiamo che cos'hai, che cos'hai da dire sul libro di Giobbe, ma sei un grande maestro quindi. E in poche battute gli smonta tutto quello che lui ha preparato e gli dimostra che non sa assolutamente niente. Wiesel aspetta solamente che questo terribile, penoso momento incontro finisca, quindi non vede l'ora che arrivi alla sua stazione salutare questo personaggio dall'aspetto di barbone e di clown, così lo descrive, e scendere alla sua fermata e andarsene. Peccato che quando arriva a Taverni, vede che Shushani prende la sua poca roba con sé e scende insieme a lui e gli dice ma come scendi anche tu qua? E questo gli dice sì, ho appena deciso che vengo anch'io a tenere la tua lezione a Taverni. Quindi Shushani trascorre lo Shabbat, si fa invitare in questa villa, in questa colonia, passa lo Shabbat insieme a questi ragazzini, vedremo in seguito che è una cosa che farà per sempre. Wiesel spaventatissimo, come racconta poi nelle sue memorie, nella sua autobiografia, la prima parte della sua autobiografia che si chiama Tutti i fiumi vanno al mare, che è un verso dell'ecclesiaste, quindi stiamo citando praticamente molti dei libri degli scritti, degli agiografi della Bibbia. In Tutti i fiumi vanno al mare, Wiesel racconta che appunto quel sabato aspetta con un misto di ansia, terrore, paura, sgomento che arrivi questo momento in cui lui deve tenere questa lezione sul libro di Giobbe e non fa in tempo a pronunciare quattro parole che Shushani gli dice fatti da parte, ho deciso che la lezione la tengo io al posto tuo, Giobbe ha già sofferto abbastanza, questa è una vecchia battuta che fanno in molti e la lezione la tengo io. Però quando arriva diciamo su questo ideale podio dice ragazzi ho deciso che di Giobbe si è già parlato anche troppo, ricordiamoci appunto ancora una volta che questi sono tutti profughi sopravvissuti, facciamo invece un'altra cosa, datemi le vostre domande, quindi vedete ancora una volta questo desiderio di intessere un tessuto di domande, datemi le vostre domande, chiedetemi qualunque cosa di Bibbia, di Torah, di ebraismo ma anche di altro, domande sulla vita, filosofia, quello che volete e io risponderò. E allora timidamente questi ragazzi piano piano si sciolgono e decidono di cogliere l'opportunità di porre delle domande a questa figura così affascinante, così misteriosa, così che trassuda qualcosa di al tempo stesso repellente e attraente e quindi si intesse un mosaico di domande e potete immaginare quali domande abbiano persone che sono state strappate meno di dieci anni prima dalle loro case, da una vita tutto sommato confortevole, ognuno con i suoi affetti, chi dalla Francia, chi dall'est Europa, dalla Galizia, come Wiesel dalla Transilvania, eccetera, per essere deportati, torturati per anni e perdere le famiglie. Quindi possiamo solo immaginare quali sono le domande che questi ragazzi hanno nel cuore e che esprimono a Chushani e Chushani per lunghi minuti ascolta in piedi e a occhi chiusi, in silenzio, tutte queste domande e quando l'ultimo dei ragazzi ha formulato la sua inizia a parlare e dalla sua bocca esce un tessuto, un mosaico, un tappeto che intesse tutte le risposte in un unico grande discorso senza soluzione di continuità. E allora Wiesel, da lui abbiamo il ricordo di questo sabato pomeriggio, dice a un certo punto eravamo tutti talmente coltivati, accattivati, affascinati da questo parlare che speravamo solamente che lo Shabbat non finisse più, che questo sabato pomeriggio d'estate durasse all'infinito e ci siamo dimenticati che lo Shabbat era finito, ci siamo dimenticati che era scesa la sera, ci siamo dimenticati di separare lo Shabbat dalla settimana con la cerimonia che in ebraico si chiama Havdalah, che è un momento importante che separa il tempo sacro dal tempo del lavoro, quindi ci dimentichiamo di accogliere la nuova settimana e di chiudere lo Shabbat. Speravamo solamente che quella notte durasse in eterno, allora è probabile che lui la romanzi un po', ma insomma pare che siano andati avanti fino alla mattina, senza mangiare, senza bere, senza dormire, ad ascoltare Shushani. E questa storia parrebbe assolutamente di fantasia se non fosse che numerosi sono gli altri racconti e tutti raccontano sensazioni simili, cioè questa capacità fabulatoria, questa capacità di tenere tutto insieme che fa di Shushani veramente uno dei maestri più desiderati, più celebrati di questo secolo. Allora facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire qual è la sua autobiografia per quel poco che se ne sa, la sua storia. In realtà sul suo luogo di nascita le opinioni divergono e discordano, c'è chi dice che è nato in Bielorussia, nell'attuale Bielorussia, c'è chi ne fa uno studioso lituano, quindi proveniente dalla grande tradizione rabbinica delle accademie talmudiche della lituana, gli ebrei più colti, rigorosi nel pensiero appunto come l'allievo più importante, levinas, c'è chi ne fa un ebreo polacco, c'è chi addirittura dice che era nato in Marocco, a Casablanca, oppure che apparteneva alla città di Safed, Tzfat, nel nord di Israele, la città della Kabbalah. Quindi vediamo che ognuno cerca di reclamarlo con un intento molto preciso, quindi o è nato dove è nato il chassidismo, o è nato al contrario, dove erano le grandi di Yeshivot degli intellettuali ebrei della Lituania, o è nato dove è nata la Kabbalah, dove è cresciuta la Kabbalah, oppure appartiene al grande ebraismo mediterraneo, all'ebraismo del Nord Africa. In ogni caso non c'è nessun tipo di concordia sul suo luogo di nascita, così come nemmeno sulla data. Vagamente si immagina una fine dell'Ottocento, un inizio Novecento, ma non si sa veramente. Quello che si sa è che per un certo periodo, nei primissimi decenni del Novecento, a quanto pare, Shushani è in America, negli Stati Uniti, forse addirittura in Sud America. Pare che perda ingenti somme di denaro, il tema del denaro, adesso ci torniamo sopra, ma è un tema importante nella vita di Shushani. Pare che perda mostruose somme di denaro nel 29, col crollo di Wall Street, e che da allora in poi giuria a se stesso di non mettere mai più piede sul suolo degli Stati Uniti, perché vediamo che invece in Sud America tornerà o andrà. Arriva in Europa, appunto, se mai ci arriva, se non c'era già prima, alla fine degli anni venti, all'inizio degli anni trenta, fra gli anni trenta e gli anni quaranta, sicuramente per quello che si può dire, è in Europa. Io ho intervistato per esempio una signora che oggi è in una casa di riposo a Gerusalemme, una signora di origini francesi, di Strasburgo, che racconta come Shushani venisse a studiare con suo padre, col padre di questa signora a Strasburgo. E questa è anche una cosa di cui ci sono molte testimonianze, cioè Shushani viveva veramente, dicevo prima, come un barbone, come un clochard della senna, aveva questo aspetto anche veramente da senza tetto, da persona senza casa, sempre con lo stesso completo nero che lo faceva anche un po' una sorta di clown triste, un po' all'Aspettando Godot, come certi clown appunto becchettiani del teatro dell'assurdo e veramente in attesa di un Godot, di un qualcosa che non si sa. C'è sicuramente in Shushani un che di messianico, è stato detto di cristologico, per esempio il suo sapere tutto, questa sua onniscienza, questa sua spaventosa cultura, senza però che fosse mai stato visto studiare. Nessuno ha mai visto Shushani aprire un libro, studiare qualcosa, eppure sa tutto, e sa tutto non soltanto di materie ebraiche, di Torah, di Talmud, ma sa tutto di matematica, scienze, arte, lingue, linguistica, storia, filosofia, astrofisica. Per un certo periodo, nel secondo dopoguerra, nei primissimi anni 50, pare che la Sorbona lo alloggi e lo mantenga, gli dia uno stipendio mensile in cambio di un mestiere veramente strano, cioè Shushani funge da supplente onnisciente, quindi qualunque professore della Sorbona non possa tenere una lezione in un determinato giorno, Shushani viene chiamato all'ultimo e senza nessun preavviso sostituisce le lezioni della Sorbona, quindi non di una scuola elementare di provincia, dalla matematica alla filosofia, alla musica, alla storia, all'arte. È impossibile comprendere la sua origine anche perché non ha accento, cioè Shushani parla qualsiasi lingua o una quantità tale di lingue che sembra che parli tutte le lingue, come l'ideale biblico dei 70, di tutte le lingue racchiuse in questo numero infinito nella Bibbia che è il 70, quindi Shushani parla almeno 70 lingue e le parla tutte senza che la sua inflessione, la sua cadenza, il suo accento tradisca un'origine e una provenienza, cioè ogni lingua sembra la sua lingua madre, è a casa sua in ogni lingua. Wiesel racconta che quando lo conosce non conosce l'ungherese, non parla l'ungherese, è strano, e che giusto per fargli dispetto, per fargli uno scherzo, per impressionarlo, impara l'ungherese, una delle lingue più difficili quantomeno d'Europa, in una settimana e lo parla come se fosse la sua lingua. L'ungherese è una delle lingue di Wiesel essendo egli nato a Ziggett che all'epoca apparteneva all'Ungheria. Non si può quindi sapere la sua origine da una lingua. Nei suoi scritti, nei suoi pochissimi quaderni, Shushani ha lasciato pochissime cose scritte. Alcune di queste sono scritte in iddish, alcune sono scritte in ebraico, altre sono scritte in tedesco. Io ho visto dei suoi quaderni che sono scritti in una lingua ma tutti in alfabeto ebraico e nelle quali passa continuamente appunto da una lingua all'altra però mantenendo sempre l'ebraico come alfabeto. Quindi così come lo iddish e il ladino vengono scritti e alcuni dialetti giudei italiani anche vengono scritti con lettere ebraiche ma sono in diverse lingue, così fa Shushani, cioè adopera l'alfabeto ebraico ma per esprimersi in le numerose lingue fra le quali può scegliere. Molte sono le storie su dov'è e come sopravvive durante la seconda guerra mondiale. Allora secondo due storie che poi sono diventate abbastanza famose, si trova in Francia o al confine tra Francia e Germania, sta cercando di scappare forse verso la Spagna, sta cercando in ogni modo di andarsene e viene fermato da delle SS. Gli trovano tutti questi strani libri in valigia, libri con formule e lui per salvarsi dice sono un professore di matematica, questi sono i miei libri di studio e di insegnamento. E allora l'ufficiale nazista che lo ha fermato gli dice caschi molto male giudeo perché io sono un professore di matematica nella mia vita da civile e quindi adesso immediatamente si rivelerà che la tua è una fandonia e ti uccido. E allora Shushani dice ovviamente potreste mettermi alla prova, farmi una domanda e io risponderò senza problemi ma invece propongo un'alternativa. Facciamo che sarò io a porre a voi una domanda. Se saprete la risposta potrete spararmi immediatamente, non mi lamento. Se invece non la sapete dovrete lasciarmi andare. È stranissimo immaginare veramente un ufficiale nazista che accetti un simile accordo ma fatto sta che questo succede. Ancora una volta forse il fascino e il carisma della figura di Shushani che fa sì che appunto un ufficiale nazista che non conosciamo per particolare voglia di scherzare. Accetti questo scambio e ovviamente la domanda e il quesito matematico che Shushani gli pone è assolutamente irrisolvibile. Fatto sta che Shushani non viene ucciso lì sul momento. Ecco non sappiamo come è andata altro che così ma sappiamo che sopravvive. Un'altra storia ci dice che viene fermato, spogliato come spesso avveniva, si vede che è circonciso e si preparano ad ucciderlo ancora una volta i soldati tedeschi, a ucciderlo lì sul momento non a deportarlo. Parliamo appunto dei rastrellamenti in Francia. Shushani dice no ma che ebreo io sono un musulmano. Dicono ah ah sì certo un musulmano e inizia a citare il Corano e a spiegare le interpretazioni del Corano in maniera molto convincente tanto che i soldati decidono di chiamare un imam, un kadì, un esperto di legge islamica lì dei dintorni. Viene portato dalla moschea più vicina qualcuno che possa giudicare la sapienza coranica di Shushani e questa figura se ne va dicendo non solo un musulmano, è uno dei musulmani più colti, sapienti che abbia conosciuto, sicuramente una figura importante nella sua comunità, assolutamente lasciatelo andare, il suo arabo è meraviglioso, la sua conoscenza del Corano è brillante e anche questa volta si salva. Allora ancora una volta io non pretendo che questi aneddoti siano veri o finti, nessuno può realmente saperlo, hanno ovviamente delle grandi elementi di inverosimiglianza, ma testimoniano di una sorta di mitologia collettiva che si è creata intorno alla figura di Shushani, per cui le leggende, gli aneddoti a questo punto si rincorrono e rimbalzano da una parte all'altra del pianeta e ogni volta che in una stanza, e questo mi è capitato spesso di sentirlo, qualcuno pronuncia la parola Shushani, è come se ci fossero una serie di iniziati, iniziati di un gruppo che si guardano e si capiscono. Mi è capitato a Only Mood, a una conferenza a Berlino alcuni anni fa, un poeta israeliano, Ademiel Cosman, ha citato Shushani che è stato anche un maestro di suo zio e improvvisamente nella stanza alcune persone hanno iniziato a raccontare altri aneddoti, allora Cosman ha raccontato gli aneddoti più strani, per esempio che Shushani non studiava mai in pubblico, ma non mangiava mai in pubblico, nessuno mai lo ha visto mangiare e bere e mangiava soltanto carote e derivati delle carote, allora sua zia gli preparava torte di carote e un giorno l'ha visto saltare da una finestra e nessuno mai più l'ha visto a Parigi. Sono storie che contribuiscono a creare una mitologia di un personaggio che bussava, come dicevo, alle porte delle persone chiedendo ospitalità per una notte, per due notti in cambio del sapere, quindi come un chierico vagante, come appunto una delle varie figure medievali quasi, di questo eterno girovago. Aveva, come già ho detto, un abbigliamento trasandato, una figura sporca e puzzolente addirittura, tutti raccontano che emanava cattivo odore e una valigia forse di cartone che non apriva mai, che non era mai disposto a aprire in pubblico. Vari sono i racconti secondo i quali Shushani lascia questa valigia presso la famiglia che lo ha ospitato anche per mesi o per anni addirittura. Una storia racconta che i padroni di casa dopo molto tempo, questo lo racconta tra gli altri anche Chaim Bacarier e altre persone, dopo mesi in cui questa valigia è rimasta in casa appunto degli ospiti Shushani già andato via, si decidono ad aprire questa valigia e dentro cosa ci trovano? Ci trovano oggetti appartenuti alla famiglia che lo aveva ospitato, ci aveva rubato argenteria, posate, bicchieri alla famiglia che lo stava ospitando, messi nella valigia e lasciati dentro la valigia dentro alla casa da cui l'aveva trafugati. Ovviamente si può parlare semplicemente di una patologia chiamata cleptomania oppure si può dare a questa peculiarità spiegazioni più sofisticate, più particolari. Può darsi che Shushani non sia esistito realmente, che si sia trattato di una sorta di allucinazione collettiva come un grande sogno di cui gli ebrei del secondo dopoguerra avevano bisogno per crearsi un nuovo eroe. Noi abbiamo iniziato questa nostra serie parlando del golem, di questo gigante d'argilla che aveva una forza impossibile a un essere umano, che era in grado di riscattare, redimere gli ebrei della diaspora dalla loro debolezza fisica, dal loro essere incapaci di combattere con la forza proprio, con la violenza per salvare le proprie vite. Shushani in qualche modo potrebbe essere la fine di questo tessuto che abbiamo tracciato perché è un eroe del pensiero. Si rifà a un commento sul libro, così continuo a citare libri biblici dalla sezione degli agiografi, un commento al libro di Daniele, del profeta Daniele, che dice, Daniele il sapiente, il saggio, colui che è molto giovane e sa già tutto, appunto come Shushani, è la grande figura dell'esilio, è la figura dell'ebreo deportato a Babilonia, quindi dopo la distruzione del primo tempio, la prima diaspora, perché il popolo ebraico perde la terra, perde il tempio, ma in cambio Dio concede al popolo la sapienza, la conoscenza. E allora Shushani a me in qualche modo fa pensare questa figura, la figura dell'esilio per eccellenza, la figura che in diaspora si porta sulle spalle questa valigia con dentro tutto il sapere, con questo sapere che ormai è talmente acquisito, è talmente diventato parte proprio del corpo della persona che si esprime nel corpo, questo corpo quasi trasfigurato dalla trasandatezza, dall'erranza, dal non avere una casa in cui lavarsi, in cui tenere dei vestiti di ricambio, queste lenti spesse che coprono gli occhi affaticati dal troppo vedere, dal troppo leggere, e appunto questa sapienza che è ormai l'unico bagaglio per l'esilio. Attenzione però perché Shushani in realtà ha un rapporto non solo con la diaspora, ma anche con l'Israele, con lo Stato di Israele negli ultimi anni della sua vita, negli ultimi venti anni della sua vita. Quando immaginiamo appunto Shushani salta dalla finestra a Parigi e scompare dalla casa dello zio di Adniel Cosman, ricompare, siamo negli ultimi anni 40, in Palestina. In Palestina pare che per qualche tempo viva in un kibbutz, in un kibbutz religioso, forse addirittura si sposta tra due o tre, combatta la guerra di indipendenza di Israele, quindi nel 1948 è arruolato in qualche modo e combatte, presta la sua opera per garantire l'indipendenza di Israele. Forse vive in Israele ancora un anno, mezzo anno, due anni, non si sa. Quello che sappiamo è che a un certo punto ricompare invece dall'altra parte del globo, dicevo prima, ricompare in Sud America. Va a mettersi in Sud America forse perché la sua grandezza è talmente immensa che ha bisogno di perdersi in orizzonti sconfinati, di finire in un posto talmente grande dove lui possa finalmente essere piccolo. Quindi dopo aver giganteggiato appunto come un golem di dimensioni sproporzionate sull'Europa, su questa Europa disfatta, su questa Israele minuscola che sta cercando di costruirsi, forse decide che gli ultimi anni della sua vita li vuole vivere invece in enormi e sconfinate pianure e praterie. E allora va a mettersi in Sud America, non in Argentina, dove la comunità ebraica sarebbe molto grande in realtà, va a mettersi in Uruguay, a Montevideo, quindi al confine con l'Argentina. E lì per alcuni anni vive e viene assistito dalla comunità, viene in qualche modo adottato, è ancora una volta un insegnante riconosciuto, forse diventa una figura più umana. Io ho intervistato alcuni anni fa Shalom Rosenberg che è stato per molti anni professore di pensiero ebraico all'Università ebraica di Gerusalemme, ma è emigrato dall'Argentina. E lui mi ha detto il Shushani dell'Europa, appunto il Shushani di Levinas e di Wiesel, era questo personaggio mitologico quasi irreale. Il Shushani che avevamo noi in Sud America era una persona normale. Non sappiamo l'età, però comunque diventava più anziano. E fungeva da maestro, insegnava. Rosenberg ha raccontato di come molto spesso prendesse un aereo attraverso il fiume per andare a sentire in Uruguay le lezioni di Shushani, delle volte addirittura per essere mandato indietro. Quindi dopo un viaggio faticoso, costoso, che la moglie di Rosenberg gli pagava proprio per cercare di aiutare il giovane marito a studiare presso il suo maestro, a volte il maestro lo rimandava indietro. Che è la stessa cosa che Wiesel racconta nella sua gioventù, perché dopo questo terribile incontro nella colonia dell'Ose a Taverni, Wiesel si accosta a Shushani e gli chiede di diventare suo maestro. Shushani gli dice non ci penso neanche perché dovrei fare una cosa del genere, salvo che poi qualche tempo dopo compare nell'appartamento di Wiesel a Parigi e gli dice ho deciso di darti delle lezioni. E allora Wiesel racconta che per più di un anno, per svariati anni, Shushani compariva nel suo appartamento senza nessun preavviso, senza mai dargli una data, un tempo, un'ora, poteva essere il primo mattino, il mezzo della notte, in qualsiasi momento. Gli teneva delle lezioni di una durata assolutamente imprevedibile che poteva andare da dieci minuti a sei ore su qualunque argomento. Arrivava, iniziava a parlare, diceva ascoltami senza interrompermi e dopo cerca di distruggere la mia lezione. E allora Wiesel poi passava tutto il tempo successivo a cercare di ricostruire questa lezione e se possibile appunto a distruggerla, a confutarla. A volte non lasciava la casa per settimane Wiesel per paura che Shushani potesse arrivare e non trovarlo e quindi lui perdesse l'incontro agognato col maestro. Quindi Wiesel racconta di questi tempi di studio come una febbre, come un delirio ovviamente, ma che l'hanno formato in quello che poi è stato fino alla sua morte quattro anni fa. Wiesel ha parlato dell'incontro con Shushani come in assoluto il più formativo della sua vita. Quando Elie Wiesel è mancato appunto nel luglio del 2016, proprio quattro anni fa, stava scrivendo a quanto pare un grande libro su Shushani, un libro a cui ha lavorato tutta la vita, per tutta la vita. Wiesel appunto nell'autobiografia che già ho citato e in altri suoi libri, nell'ebreo errante, in altri suoi libri, ha parlato di Shushani. Stava componendo un libro completo su Shushani quando la morte l'ha portato via e questo ovviamente fa parte del mito di Shushani, la cui morte stessa avviene, e di questo abbiamo una data, il 26 di gennaio del 1968, appunto in Uruguay. Noi abbiamo iniziato questa storia vedendo un Shushani che compare in sinagoga il venerdì sera all'entrata dello Shabbat, ebbene anche la morte di Shushani avviene il venerdì sera all'entrata dello Shabbat. Shushani rifiuta per tutta la vita di partecipare alle funzioni in sinagoga perché essendo chiamato a leggere alla Torah, come succede nelle funzioni in sinagoga, avrebbe dovuto rivelare il suo vero nome, cosa che come abbiamo detto all'inizio non fa mai. Quindi per non dover rivelare il suo nome, essendo chiamato alla Torah come tal dei tali, figlio di tal dei tali, rifiuta per tutta la vita di partecipare alle funzioni, ma il venerdì sera non si legge la Torah, quindi invece può andarci. Allora il venerdì sera della sua morte Shushani si trova in un seminario, in un seminario per insegnanti di materie ebraiche di tutto il Sud America, organizzato dall'agenzia ebraica, dalla Sohnut, e è lì per tenere delle lezioni. E allora ancora la versione un po' romanzata della sua morte che ho raccolto da varie persone è che sta cantando l'Echadodi, uno dei canti, delle poesie liturgiche che accolgono lo Shabbat, è seduto sotto un albero, stanno celebrando questa funzione di accoglienza dello Shabbat tutti insieme e a un certo punto Shushani appoggia la sua testa sulla spalla di una ragazza che è seduta vicino a lui. Noi non sappiamo niente della vita amorosa di Shushani, non sappiamo se abbia mai avuto una moglie, dei figli, una famiglia, se abbia mai amato le donne, ci sono addirittura voci invece che dicono che amava più gli uomini, i ragazzi, sono tutte dicerie, sono tutte voci che vengono dette da qualcuno e smentite da altri, ma non sappiamo nulla del suo rapporto con l'altro sesso o con il suo stesso. Fatto sta che Shushani decide o non decide di appoggiare il suo capo sulla spalla della ragazza a lui vicino e così muore con quella che nell'ebraismo è chiamata Mitat Neshika, cioè la morte in un bacio, attribuita anche alla grande figura di cui abbiamo parlato parlando del Golem, cioè il Maharal di Praga, il rabbino miracoloso di Praga, ancora una volta qualcosa che accomuna la storia di Shushani e il mito del Golem. La tradizione ebraica dice che chi muore di venerdì sera, quindi all'entrata dello Shabbat, è anche nato di Shabbat, noi non sappiamo appunto nulla sulla data di nascita di Shushani, ma dal fatto che muoie di Shabbat possiamo immaginare che sia nato di Shabbat. E un'altra grande tradizione dell'ebraismo dice che chi nasce di Shabbat è un giusto, è un Lamed Vavnik, è un appartenente a quei 36 giusti grazie ai quali il mondo esiste, che sono presenti in ogni generazione senza sapere di essere dei giusti. Quindi mandano avanti il mondo senza sapere che sono loro. Ne parla anche Borges che ormai cito in ogni nostro appuntamento, quindi non posso esimermi anche questa volta, in particolare ambientando questa nostra ultima storia ai confini del mondo in Sud America. Shushani viene appunto trovato morto all'entrata dello Shabbat del 26 di gennaio del 1968, data di nascita di Mozart, tra l'altro. E a proposito di Mozart e di sepolture difficili, Shushani viene sepolto a Montevideo. L'epitaffio lo scrive Elie Wiesel, è un epitaffio scarno che dice qui starà chiuso il mistero di Rav Shushani, il suo mistero, la sua vita e la sua morte sono sigillate nel mistero. Alcuni anni dopo la tomba viene aperta e viene trovata vuota. Il mistero continua, io vi do appuntamento ai prossimi venerdì in cui tratteremo argomenti diversi che vi riveleremo nel proseguimento. Intanto grazie per essere stati con me in questi quattro viaggi, in quattro personaggi affascinanti della cultura ebraica. Alla prossima!